Forse non tutti sanno che il grano saraceno, i cereici lo sanno di sicuro, nonostante il nome possa ingannare, non è un cereale, bensì il frutto di una pianta erbacea della famiglia delle poligonacee, quindi è perfetto anche per una dieta senza glutine. Tra l'altro è ricco di ferro, fosforo e magnesio, quindi preparatevi a realizzare galette breton e pizzoccheri come se piovessero.